Buonasera, innanzitutto grazie perché uscire di casa il venerdì sera senza rimbambirsi davanti alla televisione per parlare di lavoro, di futuro, di Europa, di euro, di banche, di immigrazione, di Sardegna, non è facile e quindi è quello che ci fa passare la stanchezza in un attimo, mi hanno detto che Alghero non era lontana da Cagliari, ci ho messo un po', ci ho messo un po', anche perché lo Stato italiano regala alla Sardegna tante tasse ma infrastrutture che non sono esattamente da 2014 e quindi mai come qui indipendenza, mi viene da dire, indipendenza dallo Stato ma anche da Bruxelles. La scommessa che stiamo facendo come Lega è questa, io faccio il segretario da 4 mesi e mi chiamano nei posti più impensati, io lunedì sono in spiaggia, purtroppo non in costume perché sono in una spiaggia che non ho mai visto in 41 anni ma che anche voi vedrete nei telegiornali in queste sere perché è la spiaggia di Augusta dove sbarcano mille clandestini al giorno e ci sono poveri siciliani che hanno chiamato tutti, Renzi, Alfano, i ministri, i prefetti, gli assessori, qualcuno si è fatto vedere? No, mi ha chiamato una signora dicendo qua in paese abbiamo paura di uscire di casa per fare la spesa perché ormai può essere frequente che esci da casa tua e ti trovi in salotto otto persone che si sono servite di tutto punto e puoi farle riuscire da casa tua è un problema. Noi parliamo di sovranità però mi si permette di dire che la sovranità significa anche difesa dei confini, insomma se ci sono dei confini vanno difesi, non possiamo spendere dei soldi per andare a prendere disperati di mezzo mondo. Siamo gli unici pirla che spendono 300 mila euro al giorno per aiutare gli scafisti, gli altri usano le navi, la marina, l'esercito, la polizia per difendere, noi li mettiamo a disposizione degli scafisti e quindi lo stop all'immigrazione clandestina, noi lo andremo a proporre non solo a nord ma anche a sud, preparatevi a proposito perché siccome abbiamo un governo di fenomeni che un giorno ti dice ci sono 800 mila immigrati pronti a partire e il giorno dopo cosa fa? Cancella il reato di immigrazione clandestina, mi sembra veramente una logica conseguenza, noi da settimana prossima quindi dal 12 maggio in tutta Italia, in tutti i comuni italiani, quindi anche a Cagliari, in tutti i comuni della Sardegna presenteremo il referendum per reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, qua non c'è più spazio per nessuno, non c'è più spazio per nessuno. Poglietevi la soddisfazione di andare in comune a Cagliari dove sicuramente c'è un funzionario di sinistro della CGL e chiedete gli scusi, io sono qua per firmare il referendum della Lega perché voglio che l'immigrazione clandestina sia reato, questo vi farà una brutta smorfia, però la legge gli impone di farvi firmare anche questo, se già non ci siete andati per un altro referendum di giustizia con cui stiamo cercando di cancellare una delle leggi più infame e vergognose degli ultimi 50 anni che porta purtroppo il nome di una donna, che tutto è forché una donna, la legge Fornero sulle pensioni e quindi diamoci una mano, l'unica vera riforma del lavoro è quella, quanto lavoro e quanta speranza ha rubato a milioni di italiani, non sono in grado di dirlo. E quindi battaglie concrete come Lega, cancellare la riforma Fornero, cancellare la legge Merlin per smettere di far finta di niente, fare quello che fa mezza Europa, ossia regolamentare, ripulire, togliere al racket e tassare la prostituzione per incassare, noi abbiamo calcolato che dalla tassazione della prostituzione in Italia potrebbero entrare nelle casse dello Stato 4 miliardi di euro, voi pensate che mandare all'asilo nido gratis i bimbi in tutta Italia per un anno costa un miliardo, quindi con la tassazione di quello che è un mestiere di cui non do giudizi morali non mi permetto, quindi non entro nel merito, però i casi sono due, o fai finta di niente e da duemila anni stiamo facendo finta di niente, oppure fai come fanno gli svizzeri, gli austriaci, i tedeschi, gli olandesi, ripulisci, togli dalla strada, controlli sanitariamente ed essendo un lavoro nel bene e nel male fai pagare le tasse, quindi con la prostituzione di un anno mandiamo per 4 anni i nostri bimbi gratis al nido e quindi vedete voi se è più intelligente far finta di niente oppure intervenire. Indipendenza, dicevamo, siamo in una terra che io ho sempre invidiato in quanto a carattere, in quanto a lingua, in quanto a cultura, in quanto a orgoglio, in quanto a tradizione autonomista, indipendentista, qua però vi stanno rubando tutto, io ho visto i dati della disoccupazione, sulla carta in Italia siamo al 12,7%, in Sardegna al 17,5%, che poi dato reale se ci aggiungiamo quelli che non cercano neanche più lavoro, tant'è la disperazione, in Sardegna siamo al 30%, cioè c'è una terra con delle potenzialità, delle ricchezze, un territorio talmente ricco incredibile, dove però una persona su tre, grazie anche al disinteresse dello Stato italiano è a spasso, grazie anche all'Europa che impone dei regolamenti demenziali a chi vuole fare agricoltura, a chi vuole fare turismo, a chi vuole fare pesca e noi dobbiamo mangiare in Sardegna i prodotti non della terra di Sardegna ma importare i maiali dall'Olanda, ma solo in un'Europa di rimbambiti con una terra come questa, perché abbiamo una serie di normative tali per cui conviene importare le schifezze da 5.000 km piuttosto che lavorare come sia sempre, ma quello che vale anche per la Lombardia, io quest'estate sono andato da un fuorilegge, fuorilegge per l'Europa, perché si ostina a produrre formaggio in montagna e qualche cretino di Bruxelles che probabilmente non è mai stato in montagna, sulle montagne Lombarde, negli ultimi anni ha deciso che per essere legale il formaggio nella Malga deve essere prodotto non in una vasca di pietra ma in una vasca d'acciaio, ora lì da generazioni e generazioni tu porta una vasca d'acciaio a spalle a 3.000 m sulla damello, è più difficile, quindi non è mai morto nessuno di formaggi di Malga prodotti in vasche di pietra e poi il pavimento non deve più essere in terra battuta ma mattonellato, cioè tu devi piastrare, a parte la bruttezza anche estetica della vasca d'acciaio e delle mattonelle e quindi se ti adegui non ci stai più dentro con i prezzi perché poi c'è la ASL, c'è il rispettorato del lavoro, c'è la FINA, perché poi non vanno a controllare a Prato dove ci sono centinaia di stabilimenti dove i cinesi lavorano 24 ore su 24 e se vai li metti, vanno a controllare l'allevamento in mezzo alla Sardegna o il produttore di formaggio in cima alle Alpi, perché così è l'Italia, ma non so come funzioni a Cagliari, io ho tanti amici che lavorano per la società di trasporti di Milano, alcuni di quali fanno gli autisti degli autobus, altri fanno i controllori e ormai mi dicono che è l'azienda stessa a dirgli quando sali sull'autobus non controllare il biglietto agli stranieri che se va bene non ce l'hanno e non ti pagano, se va male ti prendono a schiaffi, controlla gli italiani, quindi siamo a una forma di razzismo al contrario, controlla la vecchietta che sicuramente non ti picchia e se di quello alto, robusto che sicuramente non ha il biglietto, lascia sta che tanto è una casa persa. Abbiamo voglia di tornare a ristabilire un po' di regole, un po' di rispetto, un po' di educazione, un po' di legalità, un po' di... penso e spero di sì e quindi le battaglie che stiamo facendo sono queste, poi di Europa io non ho fatto studi economici, ho fatto il liceo classico, ho fatto storia all'università e giornalista di professione, non ho fatto la Bocconi come Mario Monti ma visto i risultati è meglio non fare la Bocconi come Mario Monti, probabilmente è più facile, è più semplice capire di economia con la licenza elementare che non con titoli accademici presi in certa maniera, perché che l'euro sia una moneta sbagliata l'ha intuito il professor Borghi, però l'hanno intuito i lattai, i frutti vendoli, gli artigiani, le partite IVA, gli agricoltori, cioè non occorrono i Nobel, poi per carità noi su quel libricino che vi invito a prendere in dieci coppie testa e a metterlo in mano, vi chiedo solo questo, non a chi la pensa come voi, perché se no è troppo facile, mettetelo in mano a qualcuno di quelli che è convinto che senza l'euro disastro, piove sempre, sciagura, il mare moto, non paghi il mutuo e il Milan non vince più e non trovi più parcheggio, perché senza l'euro ormai le ho sentite ti cadono i capelli, tutte, senza l'euro è la calamità naturale, tutte palle che il lattaio ha già intuito essere palle, perché quello che stiamo vivendo è già successo vent'anni fa, nel 92, non si chiamava euro, si chiamava smè, ve lo ricordate, anche allora ci rifilavano la moneta unica forte, perché l'Europa dice grande e bello, piccolo e brutto, pensa che è bello il grande mercato, il grande centro commerciale, il grande negozio, il grande appezzamento di terre, la moneta grande, come quella pubblicità del pennello grande, però la quantità quasi mai fa rima con qualità, e quindi nel 92 cosa è successo? C'è un rifilato anche lì, il grande, la lira brutta, piccolina e puzzolente, no, da sola non vale più, entriamo in una moneta unica più grande, così siamo più forti e fortunati, non va, scricchiola, e quindi una notte di luglio amato entrò nei vostri conti correnti e vi fregò il 6 per mille, per salvare la moneta perché se no sarebbe stato un disastro, perché se uscivamo sarebbe stato un disastro, provate a tornare a 20 anni dopo, non bastò e allora inventarono la tassa sul medico di famiglia, non bastò, inventarono la tassa sulla casa, non bastò, allungarono l'età pensionabile, vi ricorda qualcosa? non bastò, misero la patrimoniale sulle società, vi ricorda qualcosa? Non bastò, la storia proprio, io ho fatto storia, la storia ritorna a cicli, solo che una volta ti ciulano, se ci facciamo ciulare anche la seconda volta siamo noi che siamo fessi, perché loro ci devo riprovare e noi dobbiamo un attimo... Benvenuta Francesca Donato. Tassarono, 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 non servì e in autunno uscimmo, la lira tornò lira, da sola, piccolina, brutta e cattiva, disastri? No, dal 93 per gli anni a seguire, boom, tornammo a vendere in tutto il mondo i nostri prodotti, perché una moneta giusta ti permette di competere rispetto agli altri e quindi il 93, il 94, il 95, il 96, guardate le tabelle, mettemmo da parte centinaia di miliardi di lire che poi diventarono i risparmi in banca a cui oggi voi e noi stiamo mettendo mano per evitare di perdere tutto, cioè le ricchezze accumulate in quegli anni sono quelle che stiamo prosciugando adesso ma non per diventare ricchi, per non andare a gamba all'aria. Quello che mi fa arrabbiare è che mio nonno lavorando una vita come dipendente pubblico lasciò a mio padre la casa dove poi vissero i miei genitori e un 40 metri quadri in Liguria, risparmiando, 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 andando in vacanza, però lasciò a mio padre qualcosa. Mio padre lavorando una vita del 45 quindi è riuscito a schivare quell'infame della Fornero, è andato in pensione e ha tenuto e ha lasciato ai suoi due figli l'appartamento del nonno, il bucale in Liguria e anche lui, boom, 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 sacrifici lavorando mio padre e mia madre, un altro buco da un'altra parte. E quindi mettendo via un pezzettino alla volta, a quanti di voi è successo? A tanti. Qual è il dramma di adesso? Che adesso il percorso è il contrario. Adesso devi vendere quello che ha messo via tuo nonno non lasciando più niente a tuo figlio, facendoti il segno della croce che poi tuo figlio trovi lavoro. Possibilmente non 4 Euro all'ora in una cooperativa o in un centro commerciale o in un call center con contratti rinnovati di tre mesi in tre mesi. Quando Renzi dice in maniera infame e subdola che per tornare a lavorare bisogna togliere altri diritti ai lavoratori, mente sapendo di mentire. L'imprenditore non è scemo, l'imprenditore assume se vende i suoi prodotti. Non è che togliendo diritti ai lavoratori fai venire voglia un imprenditore di assumere. Se ho un negozio e vendo la mia merce ne assumo 4 di commessi e li pago anche bene. Se nessuno entra nel mio negozio tu puoi pure frustare i commessi e le commesse e mandarli gratis, non mi servono. Quindi l'uscire dalla gabbia di matti dell'Euro e riprendere il controllo della moneta del lavoro serve a far ripartire anche la serenità. Perché io immagino che molti che non riescono ad arrivare al 27 del mese poi non hanno tempo per pensare, non hanno tempo per sorridere, per pianificare una famiglia, per pensare al futuro. Perché gli 80 Euro a chi lavora, se vengono sottratti dai conti correnti di chi non lavora, non è un'operazione geniale. L'emergenza in questo momento è chi non lavora, è tornare a dare un futuro e una speranza agli esodati, ai caessi integrati e disugubati e in Sardegna, ne sapete qualcosa più di me, è una strage continua. Perché poi qua ci sono anche gli imprenditori infami del mordi e fuggi, del spremi il limone fino a che c'è qualcosa da spremere, poi chiudo qua, ti lascio la catedra nel deserto, ti lascio a casa 200 operai e chi si è visto e si è visto. Poi ci aggiungiamo uno stato di dementi che permette i monopoli sul settore del trasporto, per cui venire in Sardegna ti costa il triplo che andare in ogni parte del mondo e quindi ditemi voi un'isola stupenda come questa, come può sperare, come può lavorare, come può sorridere. Detto questo non abbiamo bacchette magiche, non è che adesso arriva il segretario della Lega e in Sardegna da domani si è tutti più ricchi, belli, simpatici, fortunati e intelligenti. No, però mi metto a disposizione nel nostro piccolissimo, con quel pochissimo che possiamo fare, a permettere a disposizione vent'anni di battaglie, errori compresi che però servono, perché nella vita chi fa sbaglia. Tranne Gesù Cristo e Renzi tutti qualche errore lo fanno. Ecco, probabilmente Matteo Renzi non sbaglia mai, gli altri più o meno ogni tanto qualche errore lo fanno, basta rendersene conto e non ripeterlo e quindi siamo qua per metterci a disposizione, per chiedervi una mano. Ecco, datemi la soddisfazione di farmi avere dal Comune di Cagliari, dal Comune di Apremice e Cagliari migliaia di firme, perché io entro maggio, voglio suonare al campanello, anzi voglio twittare, siccome Renzi twitta solo, probabilmente anche quando mangia twitta, io voglio twittare Renzi dicendogli guarda sono giù in piazza con gli scatoloni con 500 mila firme per farti rimangiare la legge Fornero e per chiedere a 60 milioni di italiani se vogliono dire sì o vogliono dire no, quindi datemi una, toglietemi questa soddisfazione. Al di là di, io ieri ero a un pranzo con centinaia di esodati, perché poi se uno non li conosce con mano, è così una figura mitologica, l'esodato, chi sa chi è l'esodato? L'esodato è un truffato, è un rapinato, è uno che aveva firmato un accordo pensando che lo Stato sia una realtà seria fra l'azienda e lo Stato dicendo io esco dal lavoro prima, tanto vado in pensione prima. Il risultato non è più il lavoro e la pensione la vedi fra 2, 3, 4 anni, domanda e io in questi 2, 3, 4 anni cosa faccio? Cazzi tuoi. Questo l'esodato ha dei figli al mutuo, paga il bollo auto, ha dei figli che vanno a scuola e che magari in estate vorrebbero farsi 10 giorni di vacanza come i loro compagni di classe e non essere i più brutti della classe e cosa gli dici? Noi come Regione Lombardia ci abbiamo messo un po' di quattrini ma non possiamo essere noi enti locali a mettere le toppe agli errori degli altri, Regione Lombardia su iniziativa nostra ad esempio diamo un contributo di 400 euro al mese alle mamme e ai papà separati o divorziati con dei bimbi a carico, ne abbiamo aiutati l'anno scorso 851, cioè 851 fra mamme e papà che dopo la separazione o il divorzio hanno perso la casa, hanno perso il lavoro, hanno perso la dignità, hanno perso la possibilità di vedere il figlio nel weekend con 400 euro al mese magari non è che cambia il mondo, però 400 euro al mese magari ti affitti un monolocale che ti permette di vedere tuo figlio nei fini di settimana. Siamo stati attaccati dalla sinistra perché? Perché abbiamo messo nella norma che però per avere questo contributo devi essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni, il risultato il 90% dei contributi sono andati a mamme e a papà italiani e per me è una felicità perché? Perché nel momento del bisogno secondo me chi è qua da più tempo ha maturato più diritti, nessuno mi convincerà del contrario, io sono un papà di due bimbi, se io ho un panino e mio figlio ha fame e anche il compagno di scuola di mio figlio ha fame e io ho un panino, ne ho due, non c'è problema, li do a tutti e due, però non sarei un papà generoso, sarei un papà idiota se invece di darlo a mio figlio lo devi essere il compagno di classe, però purtroppo in Italia c'è una sinistra per cui è più elegante aiutare il povero che arriva dagli altri continenti quando magari il povero ce l'hai a Cagliari sul tuo pianerottolo, però è meno chic, è più bello aiutare l'altro quando l'altro ce l'hai di fianco, però fai finta di niente. La Lega non è nata per fare finta di niente, se qualcuno di voi avrà la sfrontatezza o la follia di cercare il simbolo della Lega sulla scheda grigia delle europee il 25 di maggio ve ne pentirete amaramente perché ve ne diranno di tutti i colori, razzisti, brutti, egoisti, ignoranti, xenofobi, evasori fiscali, ho dimenticato qualcosa, terroristi, fascisti, nazisti, poi ci siamo alleati con la Le Pen quindi nazisti pure, di tutto, io ho conosciuto Marine Le Pen, è una donna con due palle così e magari ci fosse anche in Italia una come la Marine Le Pen. Loro hanno la Le Pen e noi abbiamo la Boschi, quindi o la Bindi, per carità, meglio la Boschi della Bindi, il PD ha già fatto un passo avanti notevolissimo, però se oltre alla forma dobbiamo andare alla sostanza, sono tifosi dell'euro, sono tifosi dell'immigrazione clandestina, sono tifosi dello statalismo. Adesso Renzi si è svegliato e ha detto dimezziamo le prefetture, noi è tre mesi che gli diciamo cancellare, cosa servono le prefetture? Non servono una mazza, risparmi 500 milioni, adesso dimezziamo. Uno dei cinque referendum che da lunedì siete in dovere morale di andare a firmare, prevede non il dimezzamento, la cancellazione delle prefetture. Un altro, magari meno sentito perché la Fornero ha rovinato le persone, la Merlin non so a Cagliari, a Milano vedere tette al vento alle 10 di mattina davanti a una scuola elementare, non è il massimo della vita. Detto questo, ce n'è uno che è contro la legge Mancino sui reati di opinione, perché l'Europa è infame, perché la moneta unica è l'anticamera del pensiero unico e se non sei d'accordo con loro sei razzista e se sei razzista vai in galera. E quindi se hai una certa idea, se dici, come dico io profondamente convinto, che le adozioni per le coppie gay mai nella vita vanno permesse, perché io di questo sono straconvinto, tu puoi essere additato di omofobia. Ognuno fa le scelte di vita che vuole, io figurarsi, sono divorziato, vado a messa due volte all'anno, a Natale non ci sono manco andato, quindi farò non so quanti anni di purgatorio, spero, prima di passare allo step superiore, quindi mio non è un giudizio morale, non mi permetto, a me spaventano gli uomini che danno giudizi morali ed è quello che mi infastidisce spesso e volentieri quando vanno in televisione della sinistra, loro hanno la verità e tu sei un poveretto, io ho ragione e tu... io non pretendo di avere la verità, leggete il libricino, magari ci sono delle inesattezze, non ce le hanno ancora trovate in quattro mesi, però magari... quindi io non entro in camera da letto, lo Stato non deve entrare in camera da letto, ognuno in casa sua fa quello che vuole, però l'altro giorno litigavo in televisione, non con uno di sinistra ma con uno di Forza Italia Cecchi Paone, quello... era assatanato, non so se si era alzato male la mattina, era uno mattina su Rai 1 ed era assatanato, questa roba dei contributi ai genitori separati, io ho spiegato una cosa di media intelligenza, il contributo ai genitori divorziati e mi fa voi discriminate perché non date questi contributi ai genitori gay, io ripensando alla grammatica ho detto, a per divorziare il prerequisito è che ti devi essere sposato, perché divorziare senza esserti sposato è una forzatura. Per essere genitore oltretutto devi aver messo al mondo un figlio e a occhio o mi sono perso un passaggio oppure o metti insieme l'uomo e la donna oppure... e quindi... il genitore deve generare, per divorziare deve essersi sposato, quindi non posso discriminare perché la grammatica non essendo un'opinione mi dice che purtroppo o per fortuna devono essere uomo o donna che si sono sposati, hanno fatto un figlio e si sono sposati. E voi discriminate. Non do giudizi però, ripeto, visto che in Italia c'è il business su tutto, il business sui clandestini perché ci sono associazioni pseudo-cattoliche e pseudo-sindacati che ci ingrassano e ci fanno i milioni di euro sulla pelle dei clandestini e degli italiani, anche sulla pelle dei bimbi perché spesso questi ti dicono mai meglio un bimbo adottato da due papà o da due mamme che non un bimbo in orfanotrofia o in casa famiglia. Cosa deve fare un politico normale? Io dico allora bene, velocizziamo le adozioni che non possono durare 4 anni e non possono costare 40 mila euro. Però sotto probabilmente c'è il business. Questo è, non voglio annoiarvi oltre, battaglie semplici, semplici. Prima ero ad Alghero, in una bellissima sala con tanta gente e c'era il Tg1, c'era il Tg2, c'era Mediaset e mi hanno fatto una domanda sulla legge elettorale. A me veniva da dire chi se ne frega. Poi non è educato perché è un segretario di partito. Io mi rifiuto di parlare di cose di cui poi domani mattina in strada a Cagliari o a Milano o a Bologna o a Cantù. Sarà importante la riforma del Senato, la riforma delle province, la legge elettorale. Per me a occhio l'emergenza è il lavoro, è l'immigrazione, è la serenità a casa e riprendere a fare quello che abbiamo sempre saputo fare per secoli, ossia lavorare. L'euro ci ha portato via la possibilità e la voglia di lavorare. La differenza rispetto al passato, perché uno dice sei stato lì 5 anni e hai dormito. No, però negli ultimi cinque anni noi eravamo 30 su 740. Gli euroscettici, i rompipalle a Bruxelles, eravamo 30 su 740. Le dura. Non so come si dica a Cagliari, a Milano, se dice le dura. Abbiamo fatto tante battaglie. Ne ricordo una, perché siccome l'Europa è basata solo sul business, sul mercato e sul profitto, secondo me l'essere umano non è basato solo sul guadagno e sul profitto, abbiamo fatto una battaglia in difesa dei malati di celiachia, perché l'Europa, siccome così gli chiedevano le multinazionali, ha tolto gli alimenti senza glutine dagli alimenti medici per fini speciali e li ha messi nel calderone. Però il celiaco non è il vegetariano che fa chic, è una scelta, non mangio la carne. Il celiaco, se mangia qualcosa che ha sfiorato al gluide, crepa, non è una scelta. Però lì magari non lo sanno o se ne fottono e hanno fatto questa roba per aprire il mercato alle multinazionali. Noi abbiamo fatto come Lega due anni di battaglie, l'abbiamo anche quasi vinta, però in 30 su 740 vi assicuro che non è facile, perché quando alzi la mano e hai 30 lucette rosse e 700 lucette verdi, perché poi si mettono tutti d'accordo. Poi quando c'è da votare sulle robe, abbiamo regalato 12 miliardi alla Turchia. C'è l'Europa e quindi in quarta parte anche voi in questi anni ha dato e darà 12 miliardi di Euro alla Turchia per provare a convincerli a entrare in Europa. Poi questi non sono scemi, si prendono i soldi e non ci pensano neanche a entrare in Europa. Però intanto gli abbiamo dato 12 miliardi di Euro che sono andati alle loro imprese e che poi vengono a fare concorrenza con i loro prodotti sotto costo a Cagliari. Quindi il disoccupato di Cagliari contribuisce a mandare i soldi alla fabbrica ad Ancara che poi vende i suoi prodotti a Cagliari crea un altro disoccupato. Proprio una roba da altro mondo. Abbiamo voglia di bloccare questa cosa assurda, di provare a cambiare la rotta della nave? Io sì, anche perché a questo giro non saremo soli. A questo giro rischiamo di essere noi in 30 su 740. Stando ai numeri e all'aria che tira in Francia, in Olanda, in Svezia, in Austria, perfino in Germania, in Belgio, rischiamo di essere in 150, in 200 su 740. E se facevamo il diavolo a 4 in 30, figuratevi in 200, lì non escono di casa proprio. Lì se portano la cosa sbagliata dormono lì e non si alzano fino a che la Sardegna non torna a essere Sardegna, la Lombardia non torna a essere Lombardia, l'Italia non torna a essere Italia. Non abbiamo niente da imparare o da invidiare a nessun altro popolo europeo. Se ci date una mano ci togliamo delle belle soddisfazioni. Grazie. Vi chiedo solo di vivere questi 20 giorni in battaglia con l'elmetto figurato sulla testa. Non abbiamo carri armati, nel senso che al massimo abbiamo delle ruspe trasformate in carri armati, ma non si muovono, quindi non è quella la via. Però nei prossimi 20 giorni se ciascuno di voi usa l'arma della parola, del dialogo, delle idee, dei numeri con 10, 20, 30 amici a Cagliari, ci togliamo delle belle soddisfazioni. Pensate che paura che si prendono quelle persone lì, se la battaglia per liberarsi, per tornare padroni, si aspettano che pigli tanti voti magari a Bergamo, a Treviso, a Monza. Datemi la soddisfazione di farli spaventare anche per Cagliari e per la Sardegna. Pensano di aver già colonizzato e raso al suolo nel nome del PD e della sinistra più cretina, anche questa splendida terra. Regaliamogli un po' di spavento, rialzando la testa in Sardegna. Grazie, viva la Lega e viva la Sardegna. Adesso un breve intervento di saluto della candidata Francesca Donato. Grazie. Io vi ruberò pochissimi minuti perché per parlare di euro, di ragioni e degli aspetti economici per cui è indispensabile uscire per rilanciare l'economia, per uscire da questa crisi terribile, c'è il professor Claudio Borghi che meglio di chiunque altro potrà intrattenervi e spiegarvi ogni aspetto. L'unica cosa che ci tengo a fare è attirare per un attimo la vostra attenzione anche sulla questione politica. L'uscita dall'euro è una condizione essenziale anche per restituire alla nostra Italia, al nostro paese, quel minimo sindacale, se vogliamo dire, di democrazia che ci è stato tolto proprio grazie alla struttura dell'eurozona. Mi spiego, con la cessione di sovranità economica che è stata apposta in essere creando la moneta unica, si è tolto allo Stato italiano uno degli strumenti fondamentali di governo e di garanzia nei confronti del cittadino dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. La nostra Costituzione, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, mirava e mira tuttora a dare allo Stato un ruolo di guida nell'economia e di garante della dignità dei cittadini e del lavoro in tutta la sua completa accezione che è presupposto fondamentale per l'esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione. Questo potere fondamentale è stato tolto al nostro Stato, prima con l'esproprio della sovranità monetaria e del controllo della moneta trasferito ad un organo sovranazionale non eletto e quindi antidemocratico come è la BCE, che non dimentichiamo ce l'è composta dai governatori delle banche centrali europee e quindi ha a cuore tutto tranne gli interessi e diritti dei cittadini e degli Stati membri. Ha solo lo scopo di tenere bassa l'inflazione per fare gli interessi della finanza internazionale. Oltre a questo abbiamo perso proprio la possibilità di dirigere la nostra economia, di fare la spesa pubblica che è necessaria per rilanciarla e per garantire l'occupazione nel nostro Paese perché non potendo più emettere la nostra moneta ma essendo costretti a prenderla in prestito appunto dalla BCE come fosse una moneta straniera e creando sempre maggiore debito non possiamo veramente fare le politiche per rilanciare l'occupazione e garantire il lavoro ai cittadini italiani. Quindi non possiamo fare quelle cosiddette manovre espansive che servono di mettere nel mercato la quantità di moneta necessaria per il suo corretto funzionamento. Questo è quello che fanno normalmente le banche centrali di tutti gli Stati che hanno la moneta sovrana, lo fanno gli Stati Uniti, lo ha fatto la Gran Bretagna per anni. A noi dicono che se noi stampassimo moneta sarebbe un'assurdità che non è così semplice, non funziona così, che avremmo chissà quale svalutazione, inflazione, perdita del potere d'acquisto. Sono tutte cose che non hanno alcun riscontro nei dati reali. È di questi giorni una stima dei risultati dell'economia americana nella quale si vede che...